benvenuti al secondo appuntamento dei cicli di presentazione del coordinamento degli istituti storici lombardi ringraziamo tutti gli istituti eh della rete lombarda per condividere questo questo nostro appuntamento oggi presentiamo un libro molto importante il libro di Mimo Franzinelli storia della Repubblica Sociale Italiana edito dalla terza Mimo Franzinelli è come sapete uno dei più importanti storici italiani dell'età contemporanea con una ricchissima produzione che non sto qui a enumerare eh ma ricordo solamente che eh proprio l'anno scorso è uscito un altro volume in qualche modo gemello di questo la storia della resistenza italiana scritta insieme a contemporanea con una ricchissima abbiamo qui eh per presentare il libro diciamo due massime autorità in tema di Repubblica Sociale Italiana e quindi eh Dianella Gagliani e Luigi Ganapini eh anche loro eh importantissimi storici eh reduci dall'impegno all'Università di Bologna eh dico importantissimi non non solo per i loro tanti lavori ma perché ehm i loro due volumi del millenovecentonovantanove quindi la Repubblica delle Camice Nere e eh Brigate Nere hanno un po' sancito una nuova generazione di studi sulla Repubblica Sociale Italiana a cui poi tutte le ricerche successive sono state in qualche modo debitrici quindi li ringraziamo anche per questo ehm non voglio togliere ulteriore spazio alla nostra discussione ricordo che ehm chi ascolta può fare le sue domande sulla chat di Facebook e ci verranno poi ehm rivolte. E cominciamo la nostra presentazione dando la parola all'autore Mimo Franzinelli chiedendogli un po' da dove nasce questo volume quali sono i suoi obiettivi e quali sono diciamo così gli elementi secondo lui caratterizzanti di questa nuova storia della RSI. Io anzitutto ringrazio l'Istituto Nazionale Parri e la rete lombarda dell'ex Insmy per questa occasione per la quale mi sento davvero onorato perché gli studi sulla Repubblica Sociale Italiana sono stati tardivi avviati all'inizio anni sessanta da Deakin e poi hanno avuto un impulso direi decisivo proprio da Luigi Gannapini e da Dianella Gagliani. Il fatto che siano qui loro come diciamo presentatori testimoni critici mi onora e non è una frase consueta di retorica. Per rispondere alla domanda di Mirko questo libro è nato da un interesse sul periodo 43-45 e è stato preceduto da un lavoro a quattro mani con Marcello Flore sulla storia della resistenza perché in realtà a ben vedere io il mio approccio è stato quello diciamo di un avvicinamento complessivo al periodo per capire la situazione di occupazione tedesca, di sfacelo di un regime, di nascita della Repubblica Sociale, del passaggio di renitenza, resistenza, quindi tutte queste dinamiche cercare un po' di tenerle insieme in due volumi che avranno poi anzi un imminente appendice sul ruolo degli intellettuali. Mi chiedevi Mirko appunto gli elementi di novità di questa storia della Repubblica Sociale Italiana, uno degli aspetti che più mi ha interessato, figure di eminenti intellettuali che ho cercato di vedere dietro le quinte con una documentazione nuova, tra questi da Pound a Marinetti a Gentile, al quale Gentile dedico una monografia al filosofo in camicia nera che uscirà fra un mese da Mondadori che recupera alcuni spunti e li approfondisce. In queste immagini che vediamo che sono tratte dal libro c'è un'altra novità della mia ricostruzione storica, cioè io ho pensato a un pubblico non necessariamente specialista e mi rendo perfettamente conto dei limiti oggettivi e soggettivi della scrittura per restituire situazioni e personaggi e allora in questo libro ci sono circa 150 fotografie utilizzate come documenti e quindi non il tradizionale inserto fotografico che lascia il tempo che trova ma nella lunga fase del lavoro d'archivio che si è svolto anche a Milano nell'archivio del Parri, insieme a documenti ho prestato attenzione al recupero di immagini, di fotografie per dare il senso, lo spessore e se vogliamo anche la suggestione e in alcuni casi il terrore dell'epoca. Uno degli aspetti che più mi ha coinvolto nella ricerca è stato quello della ispirazione razzista della Repubblica Sociale che è stata a lungo negata ovviamente dagli stessi protagonisti, dai reduci e che solo in tempi relativamente recenti si è approfondita. Io gli ho dedicato non soltanto un capitolo specifico ma l'ho affrontata in modo trasversale in moltissime pagine del libro perché è uno dei tratti che prendono lo spirito dei tempi e questo accanimento della Repubblica Sociale, diciamo, dietro l'occupante tedesco ma anche con caratteri suoi specifici in una caccia agli ebrei che già come sappiamo era iniziata nel 38 ma se fino al 43 era, diciamo, limitata, se così possiamo dire, ad aspetti economico-finanziali materiali adesso diventa una persecuzione sulle vite. E poi la figura di Mussolini, un personaggio assolutamente ciclotimico che si rende conto dei suoi limiti di non riuscire in realtà a costruire un esercito che vada al fronte e l'esercito di Graziani dal quale defezionano migliaia e migliaia di reclute di cui racconto anche le modalità del ruolamento in molti casi forzato e quindi una debolezza intrinseca al quale fa capo il fenomeno in una Repubblica policentrica e decentrata, il fenomeno delle polizie, delle polizie che combattono se così vogliamo una guerra sporca in modo tale da rispondere più ai tedeschi che non allo stesso Mussolini che in parte come il caso della banda Koch ne è infestidito. È un argomento quello della Repubblica Sociale che ho cercato di affrontare anche nella prospettiva della memoria. Come si sedimenta la memoria della Repubblica Sociale e perché oggi in ambienti giovanili e della destra radicale si guarda non al Mussolini imborghesito del regime ma al Mussolini della guerra civile e quindi ho dato spazio anche con se vogliamo una fuga in avanti al dibattito che si aprì in modo anche fuoribondo con le declarazioni dell'allora Presidente della Camera Luciano Violante sui giovani di Salò e ho analizzato un po' anche questo aspetto. Insomma devo dire che questa ricerca mi ha molto coinvolto e il bello della storiografia per chi la fa e per me ma credo anche per molti altri è che ti immergi in una situazione e quando ne esci ne esci cambiato nelle prospettive analitiche e per quanto riguarda la Repubblica Sociale è una pagina veramente terribile nella quale c'erano componenti qui vorrei suggerire di magari fermarci un attimo rapidamente su alcune immagini. E che online sta proiettando Mimo non so per quale motivo comunque adesso mi provo a fare ripartire. Grazie perché ne abbiamo viste di sfuggita due molto significative una è che rende l'idea della presenza di giovani di giovani di giovanissimi addirittura di mascotte ecco qui questi sono ragazzini di 12 13 14 anni non sono lì a caso sono lì perché Mussolini da sempre strumentalizza la gioventù ha fatto diventare la giovinezza l'inno del regime fascista e gli rispondeva a Gabriele D'Annunzio che nell'Italia fascista si invecchia al canto di giovinezza. Questi bambinetti e oggi parliamo di soldati bambini riferiti a alcune località dell'Africa ecco questo fenomeno c'era già durante la Repubblica Sociale e questi ragazzini che sembrano inermi ma prestate attenzione alle armi da alcune testimonianze orali raccolte molti anni fa erano terribili perché non avevano la percezione etica e morale di quello che facevano e perché andavano al gioco della guerra strumentalizzati da Mussolini. Vediamo rapidamente alcune altre immagini. Vedete che il caso tipico, qui siamo nella decima maas, gli emblemi di morte e il vessillifero è un ragazzino che al più ha 14 anni. Ecco se facciamo un rapido scorrere di immagini vedete qui questo è il modello nazista e qui siamo in Italia e giovanissimi. Questo è il cerco di guerra Borsani che poi verrà fucilato nei giorni del passaggio dalla guerra alla liberazione e notate sempre dietro le bandiere, le bandiere con la svastica e anche nella cartolina successiva che ho trovato alla fondazione Luigi Micheletti di Brescia, è stato preziosissimo il materiale che ho rinvenuto lì, è questa di produzione tedesca, della propaganda tedesca e appunto accampa una collaborazione alla pari che in realtà assolutamente così non era. Se vogliamo rapidamente vedere le altre immagini, ecco cosa vi dicevo, questa è una foto che ho scattato io a Roma all'ufficio del Stato Maggiore dell'Esercito, qui sono pacchi, pacchi di mandati di cattura, io li ho disposti a ventaglio e questi erano tutti giovani arruolati nell'Esercito della Policostata Italiana che defezionavano e passavano con i partigiani. In alcuni casi venendo catturati ricevevano una morte esemplare, il caso di Firenze fu molto importante, al campo Marte, cinque fuggilazioni davanti a centinaia di reclute per terrorizzarle e indurle a non defezionare. Ecco, rapidamente vediamo altre immagini, qui è la decima mass di un mio Valerio Borghese che combatteva in certi modi, se così si può dire, una sua guerra per onore e lealtà ma era anche una guerra sporca, si vedranno poi altre fotografie di impiccagioni da parte della decima. Questa è una testa, sono documenti questi inediti che ho rinvenuto durante la ricerca. Ecco appunto la frutilazione di una giovane, è interessante, spiego poi nel libro il motivo, lui aveva aiutato ad defezionare alcuni soldati e nella fotografia successiva, è un'altra che ho scattato io in archivio, alla fondazione Micheletti appunto, ci sono tutte le schede segnaletiche della regione M, M come Mussolini. È interessante vederli anche nel loro aspetto, qui è Vincenzo Costa con Pavolini, segretario del partito fascista repubblicano, che passano in rassegna un reparto e guardando attentamente la fotografia si vedono anche qui dei ragazzini. Ecco Igor, scori ancora ragazzi. E questa è la banda collotti nella zona di Trieste e racconto tutta la vicenda che adesso non posso sintetizzare, sono interessanti gli abbigliamenti disparati e poi le ausiliarie. Per la prima volta nella storia italiana le donne combattono a volte direttamente o comunque in funzione ausiliarie delle camicie nere. Questa è la benedizione del vessillo. C'è anche tutta una dimensione religiosa che io studio, perché questo è un tema che mi ha sempre coinvolto, come la religione possa essere usata in modo strumentale per motivare anche la guerra civile. E nella fotografia successiva, le disposizioni, qui siamo un articolo del Corriere della Sera, l'arresto di tutti gli ebrei alla faccia di quei revisionismi storici che dicono che la Repubblica Sociale Italiana anzi era addirittura solidale con gli ebrei. Sono tutte mistificazioni. Andiamo rapidamente verso la fine con le immagini, se ce ne sono delle altre. Mi fermerei qui per dare spazio agli illustri presentatori che ringrazio davvero di cuore. Grazie, grazie Mimmo anche di queste immagini. Io credo che il volume sia molto importante soprattutto per la sua, per l'articolazione della narrazione, dell'esposizione che ci mostra la complessità di questa vicenda, quello che tu all'inizio chiami regno della discordia, la RSI come regno della discordia. E poi seguendo questi diversi personaggi, i fili dei diversi itinerari nella loro complessità, emergono cose davvero interessanti. Chiamo in causa prima di tutto Dianella Gagliani. A te la parola Dianella. Grazie, anch'io sono molto contenta di essere qui a presentare il libro di Mimmo e con poi gli amici Mirko Carattieri e amico collega di anni fa Gigi Ganapini, Luigi Ganapini. Un tema che volevo affrontare era proprio quello delle fotografie, qui mi limiterò, perché le fotografie, cioè la struttura del libro di Mimmo, le fotografie emergono come un dato non accessorio, un sovrappiù. Certo sono o nella stessa pagina o nella pagina vicina dell'evento o del personaggio narrato diciamo, però rappresentano una documentazione a sé stante. Nel senso che infatti io che le foto, sì, do importanza, in questo caso ho detto ma guarda, no? Le foto che cosa ci restituiscono? Alcune cose le ha dette Mimmo adesso e poi vorrei dirle anch'io su, diciamo, nello specifico sulle foto. Ci sono molte questioni, io non posso affrontarle tutte, la questione delle fonti, il rapporto fonti private e fonte pubbliche, le stesse fonti pubbliche quanto sono pubbliche o le stesse fonti private quanto sono privati. Io mi chiedo eccomi le lettere di Mussolini a Clara Petacci verso la fine della loro esperienza, il 44-45, quanto siano private e fino a che punto? Dal momento che lui a un certo punto sa che lei fotografa tutte le lettere che lei, che lui le invia e a un certo punto io mi sono chiesta quanto queste lettere dove emerge, questo io soffro, io no no no, non sono più nessuno, era meglio se morivo nel 36 o al massimo nel 38 dopo Monaco, quanto siano, ecco questo sì, proprio per il problema che pongono tutti queste fonti di Salò, quanto lui supponesse che poi quelle lettere le leggeva qualcun altro e quindi tendeva a mettersi in luce come il sacrificando, perché anche qui c'è il discorso del sacrificando, non certo l'uomo combattivo del ventennio, ma l'uomo che si sacrifica, ecco questa come però ho apprezzato molto perché Mimo è un individuatore di fonti eccezionale, anche il diario che cita di Silvio Gai, come la figura che ricostruisce di Silvio Gai, interessante, molto interessanti questi materiali. Anch'io metterei subito in evidenza, anche per gli ascoltatori, per dire qualcosa a chi non ha letto il libro, diciamo, ancora non ha letto il libro, il quadro generale della Repubblica Sociale che emerge. Uno, l'irrilevanza politica, istituzionale, sociale di questo, di questa esperienza rispetto all'alleato tedesco, rispetto anche al non consenso della popolazione, una vera e propria estraneità e questo mi sembra importante ed emerge da tanti aspetti, questo fatto del non consenso, il che non vuol dire consenso alla resistenza, ma vuol dire semmai mettersi in un piano anche di attesa, ma non consenso assoluto nei confronti di questo regime che vuol continuare la guerra a tutti i costi, a tutti i costi, mentre la gente, la maggioranza della popolazione in assoluto vuole finire la guerra, comunque finisca, vincano anche gli anglo-americani, vinca chiunque deve vincere, ma noi vogliamo finire la guerra, quindi il non consenso della popolazione e le estraneità. Un centro, lo ricordava adesso ancora Mimmo, che non riesce a controllare la periferia per la situazione caotica del momento, per i bombardamenti continui, per il caos generale e anche perché c'è stata la disfatta del fascismo, il crollo verticale del fascismo, il 25 luglio del 43, dove appunto lui parla la scomparsa dei fascisti al 25 luglio 43 o a rifugiarsi in Germania, però questa sconfitta del fascismo non viene interpretata come tale, non viene interpretata come tale ma viene e viene poco analizzata e la maggioranza di quanti tornano sulla scena danno, propendono per diciamo adottare la teoria del tradimento, cioè il fascismo secondo questa teoria c'era, era forte, ma era stato tradito, il fascismo era forte, sarebbe stato, avrebbe continuato essere forte, la popolazione secondo questa teoria era col fascismo ma è stata obnubilata e quindi adesso arriviamo noi e faremo in modo che questa popolazione torni di nuovo con noi. Uno spirito di cui c'è un grande spazio che viene dato al tema del tradimento, non è la prima volta nella storiografia dell'RSI che si dà questo spazio ma diciamo qui emerge anche con questo carattere poi plumbeo in maniera particolare che viene fuori dalla sua analisi lo spirito vendicativo, ecco qui proprio lo spirito vendicativo. Quando vince diciamo all'interno di quel contesto molteplice l'anima squadristica si allargerà diciamo il tema del tradimento, la teoria del tradimento non solo ai 26 luglisti, quelli che il 25 luglio hanno abbandonato Mussolini ma alla fine a tutta la popolazione, la popolazione che non si allinea e quindi traditrice è anche la popolazione, qui c'è anche Mussolini che dirà io la popolazione, il tradimento no? Anche Mussolini parlerà del popolo che ha tradito, che lui non ha avuto il marmo per fare le statue che aveva avuto Michelangelo, lui aveva avuto solo della Creta e quindi con della Creta non si può fare quel popolo forte che lui voleva per le sue grandi, diciamo la sua volontà di potenza. Ecco a partire dalla teoria dei pochi ma buoni, quindi c'è questo discorso di potenza che diventa prepotenza, i pochi ma buoni, i pochi che hanno la missione di rimorchiare le moltitudini, di obbligare i più ad obbedire e quindi questo discorso dei pochi ma buoni di un'elite, di un'aristocrazia, avrebbe detto, aveva detto e dirà ancora Iulio Sevola che ha questo compito. Il libro di Mimmo fa risaltare, lo dicevo, il clima plumbeo di Salò, le diffidenze reciproche, quelle di un di una personalità nei confronti di un'altra, un ministro nei confronti dell'altro ministro, quella di un comandante nei confronti di un altro comandante, di un corpo militare aromato verso l'altro corpo armato e dove la violenza diventa un soggetto centrale, anche le foto che prima sono scorse fanno emergere questo tema della violenza fino a quella, alla violenza stragista e qui ha fatto molto bene Mimmo inserire due tavole nel suo libro, una relativa alle stragi prettamente naziste di cui si sa che sono stati nazisti a copierle e una relativa alle stragi nazi fasciste, di cui alcune prettamente fasciste, proprio per discutere, mettere in discussione il cliché del bravo italiano rispetto al cattivo tedesco. L'altra cosa che ho apprezzato molto è la costruzione della storia dell'RSI attraverso le biografie, eminentemente attraverso le biografie, dei protagonisti, dei vari protagonisti che sono seguiti nel loro percorso di vita fino alla fine e da dove cosa emerge da questo fatto dalle biografie seguite fino alla fine e emerge che diciamo la mancata epurazione, ecco questo da Mimmo, dal libro di Mimmo emerge, la mancata epurazione perché la maggior parte di questi personaggi, di queste personalità sopravvivono, diciamo al 25 aprile, ai giorni successivi alla liberazione, ai primi di maggio o al maggio del 45, al luglio del 45, questi sopravvivono e molti di questi saranno la maggioranza assoluta, verrà amnistiata e già nel 50, che ancora prima nel 51, massimo 52, saranno tutti a casa quindi la mancata epurazione nei confronti di questi personaggi mi sembra da sottolineare ed è attraverso queste biografie che viene affrontato sia il tema della violenza, sia il tema del razzismo, dell'antisemitismo con questa corposità di cui parlava prima lo stesso Mimmo, sia quello degli intellettuali, infatti anche ho apprezzato queste biografie da quella appunto di Marinetti e di Gentile e anche di Marco Ramperti, cioè vengono fuori delle biografie particolari, a quelle dei redenti dell'antifascismo e dove si mette appunto in evidenza che non sono redenti dell'antifascismo ma già da molto tempo, no? Non è la Repubblica fascista di Salò che richiama a sé i repubblicani storici vecchia data che non erano passati al fascismo o i socialisti di vecchia data che non erano passati al fascismo o i comunisti di vecchia data che non erano passati al fascismo, non si tratta di questi, qualcuno c'è chiaramente, ci saranno dei repubblicani e così anche altri, ma si tratta di personalità un Bombacci, un Carlo Silvestri, un Ramperti, sono personalità che si sono aggregate al Carlo del fascismo, voi per ricatti, voi per la capacità seduttiva di Mussolini, Mussolini aveva una grandissima capacità seduttiva di questo dobbiamo, questo dobbiamo riconoscerlo, nell'attirare a sé, no? Nel prima reprimere e poi semmai richiamare per dire guarda che ti do la briciola e quella briciola sembra ai perseguitati chissà che cosa, no? Quindi c'è anche tutta questa, questo aspetto melmoso che noi, su cui c'è questo aspetto, c'è l'aspetto plumbo e c'è anche l'aspetto melmoso di rapporti che si instaurano in questo, nel regime fascista e che poi proseguono nella Repubblica Sociale. Le biografie consentono di fuoriuscire sia da un'immagine demoniaca di alcune personalità, sia da un incensamento di alcune di queste personalità da parte del mondo fascista, del dopoguerra, no? Dai sopravvissuti e da quanti si riconoscono in quell'esperienza, dai fascisti, diciamo, dal 45 in poi. Quindi la fotografia, così come quelle fotografie che abbiamo visto, quelle relative ad esempio alla decima mass, ma non solo, ci consentono di dare una corporeità, restituiscono una corporeità ai fascisti e quindi li umanizzano, quindi si fuoriesce da una visione demoniaca, incorporea, diciamo così, di solo male, ma nello stesso tempo gli conferiscono tutto l'aspetto di ferocia, no? Comportamentale, infatti anche rispetto alle stragi, non so se mai se ce ne farà vedere qualcuna d'immagini o anche relative a dei torturati, ci sono delle foto che sono veramente toccanti, secondo me, significative e indipendenti, diciamo, dallo stesso documento scritto, dalla stessa documento scritto. e questo sulla, su questo clima flumbeo, ho detto, le biografie, ecco, un aspetto che mi sembra centrale, un po' lo diceva adesso Mimmo parlando prima, è la messa in discussione costante, lo smontaggio, come diceva lui prima, delle mitologie che si sono costruite, che sono state costruite nel dopoguerra, dai protagonisti della Repubblica Sociale Italiana, con ricadute nel discorso pubblico generale, nell'opinione pubblica generale. Uno, appunto, quello dei redenti dell'antifascismo, questa Repubblica Socialista, questa Repubblica Repubblicana, no? Si realizza veramente la Repubblica, c'è il tentativo di realizzare la Repubblica Sociale di Mazzini, si vuole realizzare il socialismo e quindi questo. Secondo, la RSI, il razzismo, l'antisemitismo, la persecuzione degli ebrei e c'è, Mimmo cita proprio, ecco, questo lo vuol fare lui, ci tiene, nomi, cognomi, anni di tutti quanti vengono poi mandati tipo a fossoli, prelevati, mandati a fossoli, poi finiscono ad Auschwitz e non ritornano, moltissimi appunto non ritornano. L'altro, la Repubblica sociale come Repubblica necessaria per salvarsi dal furore teutonico, anche questo è messo in discussione, e così quello del sacrificio di Mussolini. Questo, ecco, mentre viene, diciamo, messo in discussione la, diciamo, la mitologia del tedesco cattivo e invece quelli della Repubblica sociale come tutti i buoni che non hanno avuto niente a che fare né con l'antisemitismo, la deportazione, l'assassinio degli ebrei, né con, diciamo, questi comportamenti violenti, terribili nei confronti del partigianato, nei confronti della popolazione civile. Quando invece, e anche qui emerge, non a caso Mimo ha voluto farci notare quella svastica là in fondo, no? Per dire, vedete, là in fondo c'è la svastica, c'è la bandiera nazista, l'assoluta maggioranza, a partire appunto dalla decima mass, per l'assoluta maggioranza, per tutti, i tedeschi erano degli alleati, erano anzi ammirati e li si ringraziava perché erano loro che facevano la guerra per salvare l'Europa. Ecco, e qui vengo a un altro tema che secondo me è ancora da approfondire riguardo a Salò e non solo Salò perché ci rinvia al prima e ci rinvia al dopo. Il discorso, ecco, di questo mito della patria perché ho notato che anche in studi più recenti si tende a parlare di patria anche per i cosiddetti ragazzi di Salò. Già quando Violante ne parlò si parlò di patria, Ciampi quando lo riprese parlò di patria e tutti si aggrapparono a questa parola patria. Io credo che su patria, patriottismo, dobbiamo ulteriormente scavare, si dovrà scavare. Certo alcuni potevano avere lo stesso concetto di patria che avevano i resistenti, i partigiani, i resistenti. Penso a Tersilla Fenoglio che gli dice sono entrata nella resistenza per la patria proprio perché io nelle scuole sentivo questo concetto di patria, io ero fascistissima da bambina, da ragazzina e quindi io per la patria, per salvare la patria sono entrata nella resistenza. però qualcuno della RSI avrà partecipato di questo però ci vuole più onestà dal mio punto di vista e questi non l'hanno usata nelle loro memorie. Anche quelli raffinati, quelli che sono stati storici raffinati poi del fascismo su questo non sono andati a fondo e anzi hanno cercato di trasmetterci l'immagine di questi bambini ragazzini animati da questo amor di patria col padre che inneggiava il risorgimento, col nonno che era stato semmai Garibaldino e via di lì. Questo invece va affrontato come nudo. È interessante che nel dizionario di politica del partito nazionale fascista pubblicato dall'istituto Treccani, quindi sono questi bei volumi, questo dizionario di politica del partito pubblicati nel 1940. Nel 1940 non solo non c'è la parola patria ma non c'è la parola patriottismo, c'è invece la parola nazionalismo, imperialismo. Cosa si cela dentro quella patria? Penso anche Mazzantini quando dice girando per Roma i nostri simboli non ci sono più. Anche lì l'uomo adulto Mazzantini poteva dirci qualcosa di più, quali erano questi simboli, simboli dell'ittoria, simboli simboli della Roma imperiale. E qui in alcune testimonianze, in alcuni documenti che Mimmo cita, Silvio Gai non a caso parlerà di impero, Romualdi parlerà di superiore civiltà. Il mite Biggini, il Biggini che tutti hanno visto perché insomma avevi il rapporto con concetto marchesi e così via, il mite, il cosiddetto mite, vi parla del mite ministro, parla di popolo potente e temuto. Qual è la patria diciamo di questi? E' questo. Nell'R6 certo, si recupera moltissimo la patria. Mussolini tornerà a parlare di patria, molti parleranno di patria per amore di patria, Giovanni Gentile parlerà di patria per carità di patria e così via. Ma perché? Perché se non ne avevano parlato per anni e anni, lustri e lustri, fino ad abbandonare il termine patria, il termine patriottismo non lo troviamo, andiamo a guardare anche sull'enciclopedia italiana di quegli anni diretta da Giovanni Gentile perché a un certo punto si recupera la patria e quindi anche qui che manipolazione avviene già in quei mesi e ovviamente dopo ancora di più finché si parla dei ragazzi di Sarò come che anche loro avevano questo concetto di patria. Da ultimo una cosa sulle donne ma non solo le donne, queste foto, voi guardatele, io non le avevo contate, non sapevo che erano 150 ma sono tante, le ho prestate molto, fanno emergere un mondo tutto al maschile, tutto, sono uomini che sfilano con Graziani quando si deve formare l'esercito, sono uomini al governo, sono uomini che si incontrano, sono ministri, sono corpi armati, sono uomini, è un mondo tutto al maschile, militarizzato, è maschile e militarizzato. Le donne quando entrano? Quando sono militarizzate, quando entrano in quell'ottica che è quell'ottica di quei maschi, di quegli uomini militarizzati per cui il valore supremo è essere guerrieri, è il combattimento e quindi loro si offrono per il combattimento e dunque le donne, noi li vediamo inquadrate eccetera, devono portare quella divisa, devono non essere, diciamo, poi i comportamenti sono diversi dai regolamenti, diciamo così, però secondo me questo dato di un mondo, se voi guardate quelle foto, le sfogliate, guardate uno a uno, è un mondo maschile militarizzato. Allora la proposta di patria che può venire fuori, questo è una piccolo tassello, è una patria militarizzata, è una patria di quella natura, i combattenti, appunto i ragazzi di Salò, ma non solo i ragazzi di Salò, quale tipo di patria avevano? E anche le ragazze di Salò, quale tipo di patria? Qualcuna può darsi che avesse quella che avevano delle partigiane? Ma alcune no, di sicuro alcune quando intervengono sulla stampa in donne in grigio verde che Mimmo cita, diranno noi abbiamo queste caratteristiche, le nostre donne sono fatte così, 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 le altre non le vogliamo, noi siamo l'elite, l'elite dell'Italia, noi siamo l'elite e quindi c'è sempre questa proposta che è una proposta di eliti pochi ma buoni, le anche qui noi, diciamo, abbiamo del materiale su cui riflettere. Basta, mi fai molto di qualcosa sui numeri, ma lascio la parola a Gigi e poi semmai, se c'è tempo, possiamo ancora dire qualcosa. Grazie. Grazie Dianella, a te Gigi. Dunque, Dianella ci ha dato un quadro, devo dire, piuttosto ampio e molto ricco, direi quasi completamente esauriente. In realtà vorrei, e io vorrei semplicemente chiamare alcune caratteristiche di questo discorso degli aderenti alla Repubblica Sociale. La prima caratteristica è il tradimento. Tutta questa storia è fondata sull'idea di un tradimento, cioè questa è la categoria fondante della stessa Repubblica. La Repubblica nasce per vendicare il tradimento che è stato inflitto a Mussolini. Questa è una cosa molto importante, anche perché finisce poi per condizionare tutto il modo di pensare di quegli uomini e di quelle donne che hanno aderito alla Repubblica Sociale in tutti i venti mesi. Il problema è sempre affrontare questa questione di tradimento. E il tradimento poi si insinua fra di loro in un modo pervasivo. Tutto è tradimento e loro stessi continuano a dubitare del vicino, dell'amico, come diffidano dell'avversario. Il tradimento è una categoria non solo interpretativa per loro, ma è una categoria entro la quale loro finiscono a vivere. Questa è una cosa molto importante e ci dà un po' il clima di questa Repubblica, dove ognuno deve continuamente diffidare degli altri. Devo dire che Mimmo Franzinelli questo riesce a dipingerlo con molta chiarezza e aggiungendo anche un'infinità particolare, perché per essere un kandakacha è proprio un kandakacha di prima categoria, perché scova doppi giochi, doppi personaggi, eccetera, con una intuizione che lo riconduce sempre a un'interpretazione unitaria. Ecco, il problema quindi di questo libro è riuscire a capire fino a dove questi uomini che si iscrivono nella Repubblica, che la portano avanti, sono in grado di reggere la loro parte fino in fondo, perché altrimenti risultano semplicemente delle macchiette, non sono degli uomini dotati di forte personalità. Anche quelli che emergono come protagonisti sono uomini che vacillano facilmente a leggere le loro biografie, i loro atteggiamenti, eccetera, ondeggiano continuamente tra la presunzione di essere sicuramente e il timore di essere sconfitti. Queste cose che caratterizzano questa Repubblica fanno un po' pugni con il carattere tutto maschile, cioè del carattere forte, determinato di questa Repubblica. Le donne sono militarizzate ma in modo da apparire quasi degli uomini anch'essi. Quindi c'è un'incapacità di globare settori che sono lontani o ostili al fascismo, al fascismo repubblicano di Salò. Questa è una debolezza che la Repubblica non riesce a superare perché i padroni di questa Repubblica sono uomini violenti, sono uomini che non concedono all'avversario nessun tipo di onore. Gli avversari sono tutti nemici e sono tutti privi di onore. In questo modo è anche assurdo pensare che loro possano impegnarsi seriamente a combatterli. Li avrebbero già eliminati con il loro disprezzo. Questa sorta di labirinto nella quale si gira a Salò è una cosa che si riflette in modo impressionante in tutti i momenti di questa Repubblica. Per esempio c'è il problema di coloro che sono i redenti di questa Repubblica, coloro che dopo avere atteggiato il fascismo a un certo punto si ritrovano a loro, a fianco dei fascisti. Una figura eccezionale è da questo punto vista Carlo Silvestri, il quale torna da Mussolini col cappello in mano a implorare il suo perdono, a a questo punto a sostenerlo, a assicurarne la bontà, l'onestà, la capacità di condurre un popolo alla guerra. Ecco, questi aspetti del Repubblica Sociale rientrano complessivamente in un quadro che non solo la storiografia ha esplorato ma che Mimmo Franzinelli riesce a far venire fuori in modo significativo. Perché è importante questo? Perché in fondo di questa Repubblica Sociale noi abbiamo saputo un po' tutto. Ecco, il merito di Franzinelli è stato anche quello di farla rivivere nei suoi drammi, nelle sue tragedie, dei suoi personaggi con una evidenza che io francamente avevo trovato poco da altre parti. Quindi questo è un ottimo lavoro che è lungi da essere una rivalutazione della Repubblica, se la fa rivivere ma la chiude in evitare, come dire, irrevocabilmente in un quadro di sconfitta e di piccinerie. Perché Franzinelli, che per fortuna non è un pettegolo, ci apre però comunque tutti gli aspetti miseri di questa Repubblica, tutti i giochi di travisamento, tutti gli aspetti vili e diretti ad agevolare i signori pur di danneggiare la collettività. Questo è un aspetto di questa storia che esce con estrema vividezza dal racconto di Franzinelli e di questo credo che dobbiamo essere riterati. Grazie, grazie Gigi. Sono già arrivate alcune domande ma chiederei intanto a Mimmo di rispondere alle osservazioni che avete fatto voi. Sì, osservazioni molto stimolanti che mi gratificano perché mi danno il senso anche della fatica, del lavoro, storia, ne vale la pena se colleghi del genere poi entrano nelle pieghe e avanzano nelle osservazioni così interessanti. La questione che è a posto di Anella Gagliani della scrittura epistolare di Mussolini con Claretta Petacci è una bella sfida. È un tema attorno al quale mi sono girato per molto perché credo di essere stato uno dei primissimi a vedere le carte Petacci e cercare di capire cosa ci fosse dietro questo rapporto strano tra questi due amanti e ho credo di aver individuato in Mussolini un maschilista terribile che aveva il terrore della morte e che in un rapporto con una giovane si illudeva di avere una sorta di eterna giovinezza. Ebbene a Salò senza la sponda di Claretta Petacci non avrebbe resistito Mussolini a queste tensioni geopolitiche che lo schiacciavano. Si rifugia in un idillio, in un idillio che poi tale non era perché il rapporto era molto molto litigioso, contrastato e sofferente da entrambe le parti. Ha bisogno di questo rapporto e ha bisogno di sfogarsi, di sfogarsi e in tantissime di queste lettere all'inizio o in calce alla fine o anche a fianco c'è scritto distruggere, distruggere, cancella, brucia insisteva perché probabilmente sapeva alla fine o temeva che lei le avrebbe tesaurizzate e lei le teneva perché quelle lettere erano un cimeglio, erano la prova dell'importanza che lei aveva nella figura di questo dittatore che non contava più niente, lei che lo scriveva che non contava più niente. E' interessante anche le lettere di lei che sono quasi tutte, sono inedite, dove gli pone come modello Hitler. Hitler, lei era una filo nazista accanita, io credo addirittura che passasse informazioni e lettere ai tedeschi e diceva Hitler è il modello, tu devi epurare sanguinosamente, devi fucilare i gerarchi. Io te l'avevo detto, se tu mi avessi ascoltato non saremmo arrivati al 25 luglio e via di questo passo. Quindi lui si sfoga, io le lettere le ho utilizzate per riportare il Mussolini che oggi molti mitizzano con i piedi per terra, dimostrare le sue miserie umane, dimostrare la sua schizofrenia politica, diceva una cosa in pubblico, il contrario in privato. Il cadavere ambulante si definiva più volte in queste lettere che per fortuna sono poi sopravvissute alla fucilazione di entrambi e che dimostrano un uomo miserrimo, un disgraziato che non ha neanche la... che è tentato da veleità suicide, lei glielo rinfaccia, che non riesce neanche a compiere. Per cui un fantasma, un fantasma evanescente che però in pubblico, e qui citerei un opuscolo lungimirante dell'anarchico Camillo Berneri, in pubblico era il grande attore, si beava, si recitava, si rispecchiava e recuperava a tratti queste sue capacità sedutive che sono state ricordate. L'ultima volta che le recupera è a metà dicembre 44 a Milano nel discorso al teatro lirico, ma è un bagliore, è un fuoco fatto e lui stesso poi nelle lettere alla Petacci lo dice o come ci siamo illusi per l'ultima volta perché a fare la differenza era sul terreno bellico che per fortunata coincidenza nel metà dicembre 44 c'era la controffensiva tedesca sulle Ardenne e poi si brucia e quindi tutto precipita verso questo ottuno incombente, è un ottuno incombente che caratterizza l'intera stagione della Repubblica Sociale Italiana e ho seguito il filo di biografie come questo personaggio che ormai era ignorato, Silvio Gai, ministro, ministro poi rimosso nelle corporazioni a fine dicembre, che è legato a triplo filo con i tedesi, che vede complotti dappertutto, che è collegato a una figura che qui non abbiamo evocato, una figura luciferina come quella dell'ispettore della razza preziosi, vedono complotti dappertutto, vivono in quel doppio mondo di ambiguità che così bene Gigi Ganapini ha appena adesso rievocato. Sono essi stessi i protagonisti e alla fine diventeranno vittime e temono di divenirlo di questo psicodramma nel quale recitano delle parti che a volte sono veramente poco credibili. Insomma è un dramma, io sono contento se sono riuscito a restituirlo in questa dimensione drammatica perché bisogna davvero smitizzare questa banalità del male e una deriva della memoria che ci presenta a questi personaggi in quanto alla fine vinti come delle vittime, come dei martiri, quando in realtà alla fine sono caduti vittime di un sortilegio nel quale hanno avuto una parte e l'hanno giocata. La questione del tradimento così ben posta in modo centrale da Ganapini, sì il tradimento era la pietra angolare su cui si è costruita l'ideologia della Repubblica Sociale Italiana, anche per un motivo molto semplice, che bisognava avere, trovare, individuare, esporre al pubblico un capo espiatorio perché altrimenti Mussolini sarebbe risaltato nella sua dimensione criminale di chi ha gettato l'Italia in guerre per la quale l'Italia era assolutamente impreparata e allora era necessario trovare i traditori annidati nello stesso fascismo, nella borghesia, nella chiesa, nella monarchia e quindi questo è il significato del tradimento e io ho analizzato i due pesi e le due misure. Dopo il processo del Tribunale straordinario di Verona che manda la fusilazione Ciano e altri e altri gerarchi non di secondo ordine Mussolini frena e assolve, proscioglie una serie di altri gerarchi che pure avevano avuto un ruolo nella sua caduta, però i due pesi e le due misure insiste con il tradimento e chi manda la fusilazione gli ammirai, cioè quei settori delle forze armate, della marina e dell'aviazione che gli erano stati alla fine ostili e questi li manda davanti al protone d'esecuzione e quindi è un comportamento veramente infingardo perché utilizza un metro diverso a seconda delle convenienze. Un'altra cosa che mi ha molto coinvolto in questo libro è esaminare criticamente la propaganda, cioè il fascismo è stato un grande regime di polizia e un grande regime di propaganda, di mistificazione. Questo apparato funziona a pieno regime nella Repubblica Sociale Italiana, forse è quello che funziona meglio di tutti, creano addirittura dei falsi, delle false notizie, le famose fake news, ma la Repubblica Sociale è una fucina di falsi dati per veri perché sono verosimili, quindi da questo punto di vista c'è una terribile modernità in questo sanguinoso autunno della Repubblica Sociale Italiana e sono questi spezzoni che ho cercato di ricostituire. La questione delle donne effettivamente è come voi due l'avete perfettamente rappresentata, ma la società era talmente maschilista da condizionare anche i ribelli, anche chi si ribellava moralmente e militarmente alla Repubblica Sociale Italiana, al punto tale che quando c'è la liberazione, la grande festa della liberazione, le grandi sfilate apparate per la città, tranne un paio di casi, le donne partigiane non vengono fatte sfilare. Perché? Perché i pregiudizi sono talmente diffusi, talmente generalizzati, che verrebbero apostrofate come delle donnacce, delle donne da trivio o da marciapiede. Quindi la società era intressicamente maschilista e permeata di quei valori familisti di cui la Chiesa era portavoce. E rispetto al rapporto di idealità, diciamo anche di motivazioni tra partigiani e repubblicani o repubblichini che dir si voglia, è interessante un'analisi comparativa delle loro ultime lettere di fucilati perché sappiamo fu guerra civile e le fucilazioni ci furono da entrambi i lati. Ebbene, nelle lettere degli appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana la guerra continua ad essere vista come un valore sulla scia della pedagogia mussoliniana e credere, obbedire, combattere. Mentre nella grande maggioranza delle lettere dei partigiani l'anelito, l'aspirazione è alla pacificazione, alla pace, al ritorno alla vita civile ed operosa. Non è una differenza da poco. E infine, recuperando le suggestioni dei miei due illustri e cari presentatori, bisogna dire che la Repubblica Sociale guardava al nuovo ordine europeo, guardava all'asse, guardava a Hitler, guardava al Giappone. Ecco perché si era perso, se vogliamo, il senso di patria che il fascismo aveva strumentalizzato. Quindi, in conclusione, la Repubblica Sociale Italiana è stato un terribile laboratorio che ha minacciato veramente di distruzione l'Italia e ha macinato tante vite e che è opportuno ricordare in questa dimensione critica di una guerra civile che non vuole assolutamente dire appiattire tutto in una notte in cui tutti i gatti sono biggi, ma anzi, proprio perché a guerra civile la discrepanza, la contraposizione di valori risalta. Bene, grazie, grazie Mimmo. A questo punto, visto che sono arrivate tante domande, ringraziamo il pubblico anche che ci sta seguendo e vorrei porvene alcune, lo farò in due step. Prima ci sono due domande che riguardano proprio la storia dell'RSI narrata in questo libro, tra l'altro sono i due colleghi che saluto, Riccardo Caporale e Iarameloni, che ci chiedono, da una parte, il rapporto centro-periferia, non è utile leggere la vicenda della RSI come quella di tante RSI, quanti sono i territori e le città controllate dal governo neofascista? E l'altra domanda è, come pensate che le fonti delle corti di assise straordinarie stiano cambiando la visione storiografica dell'RSI? A te Mimmo. Allora, il rapporto centro-periferia va visto alla luce dello spostamento da Roma al nord. Il fascismo era stato, dal punto di vista amministrativo, un regime assolutamente centralista ed antidemocratico. Roma a Capodmundi era l'urbe, il centro dell'impero, tutto questo viene frantumato e Mussolini è distrutto, esce distrutto, nel trovarsi in una situazione periferica, quasi turistica, e dove c'è un esodo, un esodo dei funzionari che, tranne quelli più motivati dal punto di vista dell'ideologia e del fanatismo, cercano di restare a Roma. Alla fine si trasferiscono soprattutto quelli che sono motivati dal punto di vista ideologico e quelli un po' tentennanti. E sul piano amministrativo la Repubblica è già italiana che continua la sua attività, ma la continua dalla periferia e con una difficoltà da parte di questi, chiamiamoli burocrati e amministratori, a entrare in sintonia con le popolazioni alle quali sono estranee anche da questo punto di vista. Sono visti come dei prevaricatori che arrivano da fuori, mentre la presenza dei partigiani, anche in chi non è a loro favorevole, però li vede come elementi che in qualche modo, diciamo, riflettevano la comunità, quindi una presenza di tipo locale. La questione delle corti straordinarie d'assise sono un documento da valorizzare, anzi vorrei dire siamo troppo in ritardo su questo terreno, perché c'è stata l'amministratore togliati dal luglio del giugno 46, fine giugno, l'amministratore togliati ha troncato l'accertamento di responsabilità giudiziarie e ha archiviato una quantità di istruttorie. Sono fonti fondamentali che bisogna recuperare, contestualizzare, perché ci portano, ci consentono finalmente di rivedere alcuni luoghi comuni, alcuni stereotipi su giustizie sommarie e in realtà fanno uscire quello che prima abbiamo sentito, cioè nell'ambito della continuità delle istituzioni dello Stato, ci fu poi una presenza, che so, il vice capo della polizia, della politica italiana chi era? Guido Leto, benissimo. Guido Leto veniva dall'Ovra, cioè della polizia politica, era il fulcro e poi cosa fa? E poi diventa il direttore delle scuole tecniche di polizia, cioè di formazione della polizia della Repubblica Italiana, cioè cose da non credere. E tanti altri casi, Presidente Tribunale della Razza e via dicendo, e andando a vedere queste fonti si può accendere una luce di cui abbiamo un gran bisogno su questo periodo che è stato ricostruito soprattutto grazie appunto anche a due dei presentatori, ma che sul quale ancora si può trovare del materiale nuovo, anche se non più a livello di testimonianza orale, su quelle ciò che si è fatto, si è fatto e si possono utilizzare le registrazioni, le trascrizioni di queste testimonianze. Forse la fonte più innovativa e meno conosciuta è proprio questa, delle corti straordinarie d'assise e utilizzarle in chiave locale come a volte si è fatto, ma per cercare di ricavarne una visione complessiva dell'Italia centro-settentrionale. Grazie, ci sono poi altre tre domande che voglio riportare a tutti e tre, che riguardano il dopo, in parte hai già risposto in quest'ultima sessione, due ascoltatori ci chiedono se ci sono state continuità tra la RSI e la Repubblica successiva e in particolare perché ci sono stati personaggi pubblici che hanno avuto un ruolo pubblico anche nella storia repubblicana pur avendo fatto parte della compagine di Salò. Questa è una domanda accorpandone due. E l'altra che è molto impegnativa, che sottopongo a tutti e tre, viene da Aldo Borghesi, quindi da un altro collega degli istituti storici e Aldo pone una domanda molto complicata per la memoria pubblica nostrana, che però è una sfida che in questo caso avendo voi tre possiamo provare a porre. Borghesi chiede, vista la crescente pressione di media e opinione pubblica, è possibile che si possa, si debba realizzare qualche forma di ricordo pubblico dei combattenti della Repubblica Sociale? Ovviamente non nella chiave dell'onore, ma della Pietas? Questa è la domanda di Aldo che rivolgo a tutti. insomma. Farei il giro ricominciando da Dianella, così sia anche da dire qualcosa su quello che è stato detto da me. No, intanto saluto Riccardo Caporale, che tanto che non vedo gli arameloni. Ciao a tutti. No, io penso sì che le fonti giudiziarie siano molto importanti, siano importanti e mettono, poi anche qui variano da corte a corte, laddove si fanno certe domande, le domande ottengono delle risposte di un certo tipo, a volte per dire non riescono a fare la domanda giusta, perché sono domande indirizzate al collaborazionismo con i tedeschi. Questi più che collaboratori con i tedeschi sono degli alleati, degli amici dei tedeschi, sono dei fascio nazisti, per utilizzare l'espressione di Pietro Nenni, no? Che anziché chiamare nazi, fascisti, Pietro Nenni, li chiamava fascio nazisti, il fascio nazismo. Quindi a volte questi aspetti non emergono, perché se si chiede se tu sei stato un collaborazionista e risposto all'ordine del tedesco, non rispondi all'ordine del tedesco, tu lo fai autonomamente e volontariamente. Quindi questi aspetti vanno sempre tenuti presenti, cioè conoscere la storia dell'RSI serve anche a leggere, diciamo, a decostruirle, diciamo, quelle fonti. Però sono utilissime perché ci portano una marea, io quello che ho potuto vedere, cioè di informazioni, di persone semplici spesso, queste testimonianze una dopo l'altra in maniera molto semplice, che ci riconduce a fenomeni, episodi violenti che si sono vissuti e che quindi non si possono non, di cui non si può non tener conto. Quindi su questo sono d'accordo. Un'altra cosa, ecco, media, ecco, sulla continuità RSI Italia Repubblicana, ci sono anche saggi già vecchi, vecchi, vecchi no, ma sono ancora utili, di Claudio Pavone sul tema della continuità dello Stato e qui noi sappiamo quanta continuità dello Stato ci sia stata, sia nella polizia e qui cito un'altra immagine di Mimmo a proposito di Boccasile che riesce a fare anche un manifesto per salvarsi sulla polizia partigiana, no? Però la polizia partigiana non avrà, non prenderà piede, i partigiani verranno cacciati dalla polizia, no? Mentre la milizia fascista era stata una polizia e con dei trasbordi anche nella stessa polizia, alla polizia partigiana non sarà consentito, no? Di restare nei ranghi della polizia, se non per qualche caso, ma molto sporadico. Gli altri vengono tutti epurati e quindi c'è un'epurazione del partigianato mentre non avviene l'epurazione di questi. Anche rispetto al salvataggio di Borghese, al salvataggio dello stesso Graziani, questi si salvano e poi saranno utili, saranno utili come altri anche per l'intelligence, l'intelligence successiva, l'intelligence straniera, l'intelligence italiana e quindi tutti questi corpi che sono fioriti, lievitati dentro la Repubblica Sociale saranno estremamente utili per i vari servizi di vari paesi, non solo dell'Italia ma senz'altro anche di altri paesi. La scuola, no? La scuola. Noi abbiamo avuto insegnanti fascisti o di questa natura o ancora nel dopoguerra per molti anni, finché non sono andati in pensione, quindi noi una continuità con l'ARSI l'abbiamo avuta e per questo io non credo che noi dobbiamo avere tutta questa pietas. Noi abbiamo pietas perché per noi, noi siamo gli unici che abbiamo un orizzonte universalistico e poiché abbiamo un orizzonte universalistico che tutti gli uomini sono uguali per dire che non vuol dire identici, come ci spiegava già Victor Hugo, l'ugualianza non vuol dire identicità. L'ugualianza è un altro concetto. Cioè per noi, noi abbiamo questo orizzonte universalistico e quindi per noi noi umanizziamo i vari personaggi, cerchiamo di capirlo, no? Quando parlavo prima per Mimmo, Mimmo ha cercato di, con le biografie e con le immagini, con le biografie servono proprio a conferire umanità, conferiscono umanità e nello stesso tempo chiaramente tolgono da un piedistallo perché conferendo umanità tolgono diciamo a quanti dicono o è il mito borghese o il mito tal dei tali, poi si guarda dei comportamenti, no? Dalla biografia. Ma nello stesso tempo io non credo che la pietas, cioè sono morti, hanno la loro tomba, nessuno deve andare a toglierla, nessuno deve andare a fare degli sgarbi, a fare episodi di questa natura, mai e poi mai e io credo che nel dopoguerra sarebbe un'analisi interessante da fare. Quanti sono stati, diciamo, gli insulti nei vari cimiteri in cui ci sono solo presenti delle tombe di combattenti della RSI. Nel mio paese c'è addirittura una cappella, una cappella dove la madre di uno che era nella Monterosa, di un tenente, poi ha raccolto i corpi anche di altri combattenti della Repubblica Sociale e viene considerata da un appararte di quel mondo come uno dei luoghi in Italia in cui, no? E lì loro vanno a depositare le loro corone nei giorni che ritengono i loro giorni e nessuno li ha mai disturbati, nessuno. Nessuno e nessuno deve disturbarli, io non sono perché si disturbino queste cose. Il problema è che però una giornata di pietas nei loro confronti mi dispiace. A me dispiace molto, ma io mi ricordo di tutto quello che è stato fatto nei confronti della popolazione, sono loro che devono, diciamo, o i loro familiari ricostruire, ognuno porta la colpa dei padri, poche storie. Noi portiamo la colpa del fascismo rispetto ai popoli che abbiamo colonizzato e abbiamo, rispetto ai massacri che abbiamo compiuto all'estero, anche noi portiamo quella colpa, siamo, diciamo, discendenti dell'Italia e quindi quell'Italia noi abbiamo colpa. Non è vero che non l'abbiamo e quindi abbiamo una responsabilità e questa responsabilità deve far sì che ci muoviamo in un certo modo. E dunque anche i figli di costoro, se a mio modo di vedere, devono averla questa responsabilità. Se non ce l'hanno e mi dicono che loro padre è stato un martire, mi dispiace, ma può darsi che ci sia il caso in cui è stato un martire che per caso si è incappato, diciamo, in una uccisione. Però io ho molte perplessità. Non credo che noi dobbiamo fare degli altarini a chi? Dobbiamo lasciare i loro cari, alle persone che li hanno, eccetera. Noi non li disturbiamo, facciano, cioè assolutamente no. Però non dobbiamo esaltarli, ecco, come sarebbe una giornata del ricordo, una giornata nei loro confronti, anche perché si è visto i dati che ci riporta Mimmo, che già in parte conoscevamo, Mirko Dondi e altri che hanno studiato queste cose, quanti sono stati gli uccisi del dopoguerra? Certo, è un discorso orrendo, però non abbiamo avuto una mamoria. Le stesse ausiliarie di cui la Mgatteschi tutti a dire, ah, se la sono presa con le ausiliarie. Le ausiliarie si parla appunto di 20, allora certo, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 20, non è poco. Però in quel contesto noi non possiamo fare, diciamo, l'altare o il monumento all'ausiliaria. Mi spiego? Perché poi è facile attraverso le donne spesso si utilizzano le donne per poi fare certe altre scelte politiche. Le povere ragazze ausiliarie, no, non erano povere, ragazze che avevano scelto. Poi qualcuna ci sarà capitata per caso, come la partigiana che ha scelto, loro hanno scelto quel campo. E hanno fatto le informatrici, no, le spie, lo sappiamo, hanno fatto, qualcuno ha combattuto, ha voluto combattere, qualcuno era presente alle torture, eccetera. si assume le sue responsabilità. Io sono perché ognuna si assume le sue responsabilità e non creare, che creeremo solo della confusione, che ce n'è già troppa, anche su quel concetto di patria di cui dicevo, ce n'è già troppa. Su quel concetto di patria, che anche loro sono morti per la patria, anche quello ha creato tanta confusione. sarebbe meglio ricominciare a mettere le cose a posto, altrimenti si fa una grande marmellata e non sappiamo da che parte veniamo e anche l'avversario che abbiamo avuto e che è stato dentro le nostre fibre, questo fascismo che è stato seduttivo, quanto ha sedotto, quanto ha affascinato, quanto l'hanno, cioè, quanto consenso, no, che si è trascinato dietro e questa cosa così grossa, noi non possiamo liberarcene facendo il monumentino, non possiamo capire perché, cosa c'è che ci ha fatto così rendere affascinante il fascismo, quanti, eh? Quanti sono rimasti affascinati dal fascismo? Grazie Dianella. Gigi? A me sembra che il discorso di Dianella sia perfettamente, scusate, condivisibile perché non ci sono vie di mezzo, non possiamo adottare un criterio di perdono universale, dobbiamo sapere quali sono le responsabilità di ciascuna parte. Poi non li metteremo al muro per carità, noi siamo contrari alla pena di morte, agli spargimenti di sangue, siamo un po' troppo buoni, insomma, dei bonaccioni. Però non possiamo farne, fare di tutto un unico calderone. Ci sono alcuni che si sono assunti alcune responsabilità in un campo, altri che giustamente hanno scelto il campo avverso e io sono favorevole a tenere forte questa distinzione e non metterli tutti insieme. Loro stessi, se potessero, risorgerebbero e ce le darebbero di santa ragione, immagino. Grazie Gigi. Diamo la parola a Mimmo per concludere questa nostra conversazione, anche se ovviamente gli spunti e tema meriterebbero ulteriore spazio, ma sappiamo bene che online poi la resistenza del nostro pubblico tenderà un po' attende già a scemare. Temi. La continuità dello Stato ha avuto proprio un baluardo nella magistratura. La magistratura non è per nulla stata epurata. La suprema corte di Cassazione, ereditata dentro la continuità dello Stato, dal fascismo e poi anche da con l'ARS in parte, è quella che alla fine fa la differenza e proscioglie in massa tutti gli imputati di crimini fascisti. Questa stessa corte di Cassazione, che è ancora negli anni 50, rivaluta metodicamente tutti con una sentenza in cui dichiara la nullità delle poche fucilazioni attuate dopo la liberazione sulla base di legittime sentenze del Tribunale italiano. Quindi tutti questi fucilati, che sono alcuni del Cine, vengono riabilitati. Tra questi ci darei rapidamente almeno un caso per far capire un po' le situazioni e i vari martirologi, perché dobbiamo contestualizzare. C'era il questore di Brescia, Malio Candrilli. Venne processato, venne condannato alla fucilazione per quella che aveva fatto rispetto ai partigiani, venne fucilato. Ok. Gli eredi, il figlio, fece ricorso per riabilitazione e la Cassazione, dicevo metodicamente, lo riabilitò nella seconda Italia negli anni 50. Ebbene, negli ultimi anni è stata finalmente aperta la consultazione, il gabinetto della prefettura dell'archivio di Stato di Brescia sulla Repubblica Sociale Italiana, è emerso una cosa che non era stata analizzata durante il processo contro Candrilli, cioè che forse la sua principale occupazione, insieme a quella di dare la caccia ai partigiani, era di dare la caccia agli ebrei. Io in questo libro ne parlo, di Candrilli, e questa era una cosa che non si sapeva. Allora chi vogliamo riabilitare? Un persecutore di partigiani ebrei come Candrilli e come tanti altri suoi colleghi. E ricorderei che nella guerra fredda, che è dal 46 fino a tutti gli anni 50, è stata virulenta in Italia, ad essere perseguitati non erano certamente i religi della Repubblica Sociale Italiana, erano i partigiani, che furono imprigionati, processati, assolti o condannati a seconda dei casi, per cui nella Repubblica Italiana la persecuzione non andò a destra, andò casomai a sinistra e ricordiamolo. Se c'è da riservare la pieta a qualcuno, io personalmente la riservo ad esempio a quei disertori, a quegli antifascisti in Fieri che già dal 40 al 43 disertarono dalla guerra, non era guerra patriottica, era guerra fascista, era una guerra di assalto e che furono poi perseguitati dai tribunali della Repubblica Italiana dopo il 45, in violazione tra l'altro a una clausola dell'armistizio che gli alleati avevano imposto e che non li rendeva più imputabili per diserzioni da 40 al 43. I disertori furono ricercati e arrestati in molti casi e in tanti anche vennero mandati in manicomio. Ecco, la pietà si serviamola veramente alle vittime e non a chi si trovò a essere vittima dopo essere passato, diciamo, dalla parte dei carnefici. E quindi la riabilitazione, voglio dire, i fascisti l'hanno avuta, l'hanno avuta a Predappio, c'è il, come sappiamo, la cripta di Mussolini dove c'è questa continua processione e a proposito a me spiace che non si riesca a realizzare a Predappio un museo della crisi della democrazia che evidenzi, che analizzi e che approfondirsi a cosa è stato storicamente, politicamente, il fascismo e anche la sua dimensione fondamentale di storia criminale, perché dobbiamo dirlo ad alta voce. Mussolini fu un grande criminale di guerra e con lui tanti altri generali, da Roata a Robotti che in Grecia, in Albania, nei Balcani, in Jugoslavia, in Slovenia, in Russia, in Etiopia e in Libia si macchiarono di crimini di guerra. Vogliamo costruirla finalmente, questa memoria, o dobbiamo continuare a fare gli ipocriti a parlare di sdolcinate memorie condivise dove si condivide solo una parte e non quell'altra sommessa che deve adesso evidenziarsi e questo deve essere un compito degli storici con un minimo di consapevolezza civile. Bene, molte grazie a Mimmo, molte grazie anche ai nostri due interlocutori, Genera Gagliani e Gigi Ganatini, invito quindi tutti i nostri ascoltatori che ringrazio a acquistare e leggere il volume Storia della Repubblica Sociale Italiana dell'editore a terza e viste le cose che abbiamo detto in questi ultimi cinque minuti, vorrei ricordare innanzitutto che giovedì prossimo 18 marzo alle ore 18 sul sito del Parri Nazionale, sulla pagina Facebook del Parri Nazionale per i giovedì del Parri presenteremo il libro di Vincenzo Sinapi su Domenicon, appunto una strage italiana del 1943 in Grecia e ricordare che il ciclo degli appuntamenti con gli istituti Lombardi prosegue invece martedì 6 aprile con la presentazione del libro di Claudio Varcelli, Neofascismo in Grigio. Vi ringrazio tutti, ringrazio anche Igor Pissius per la parte tecnica e vi do appuntamento a queste prossime presentazioni. Grazie e buona sera. Ciao a tutti, grazie. Grazie mille, un abbraccio virtuale dall'America Latina. Un abbraccio a te Mimmo, ciao, ciao. Ciao, grazie davvero di cuore, grazie. Ciao, ciao, ciao.